Ok, allora, perché per le popolazioni medievali tre erano le massime aspirazioni, una bella mangiata, una bella cagata e una bella trammata. E' vero, è vero. Vogliamo fare l'aeronautica. La bella, prima la bella. La bella, la bella, la bella, la bella, la bella. Vai, guardaci e dillo ognuno a caso. Allora Valentina, Giulia. Lorenzo, Luca, Dimitri, Marco, Valerio, Federico, Giuliana. Matteo, Valerio, Cristino. Ma sti, ma di cosa stiamo parlando? Dai. Allora, questa è un discorso veramente fantastico. Sono stati discorsi memorabili. Comunque, in un caso, si parlava dei, sul fatto della cronaca nera, giusto? E il prof menziona questa parola. Come fate a parlare di una cosa di cui non sapete assolutamente nulla? E' come se... E' come se vi interrogassero su... No, non c'è. E' come se vi interrogassero sui quesiti e problemi più aperti dell'astrofisica. Ma che ne sai? Quello mi fa il plastico. Come risolviamo questo problema di astrofisica? E' chiamiamola, è telefonata. Ma dica, allora stiamo parlando. Di che cosa stiamo... Grazie a tutti. Non si fa Non lo sconare Non sta via la pantina di sicurezza Non c'è la madre Ma noi vogliamo anche niente Ma no, stico Pubblico e privato Pubblico e privato Ma ti ha suggerito No, 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 deve farci vedere una cosa No, no, no Ciao 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 No, 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 no Oh, puoi fare lì Quattro Dio Quaggia la burocrazia Quaggia la burocrazia Dimitri, la burocrazia Allora, Dimitri La burocrazia Ah, giusto Giulia, ti tiro una scarpa in faccia Non sai come Giorgia È una professionista in queste cose Lei non si sente Allora, se io dico che Giovanna è la cosa più importante della mia vita Oppure dico che Giovanna è la rosa del mio giardino Le cose cambiano E funzionano Perché funzionano Perché funzionano Perché funzionano Quello dal discorso però te lo ricordi? Eh È un mondo bestia Ma è un mondo bestia Ma è male Allora Allora Non c'è un mondo bestia Non c'è un mondo bestia Ma è vero lo fa Non c'è un mondo bestia 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 Grazie a tutti.